Ciao Mirko, sono Alessandro Del Piero, so che non è un momento facile per te, ma mi hanno detto anche che sei un grande lottatore e che hai tanta grinta e forza di volontà, quindi da oggi anche un tifoso in più, spero che ti possa rimettere presto in forma e spero anche un giorno di poterti conoscere di persona. Ti mando un abbraccio grande grande e a presto. Ciao Mirko, forza eh! Un abbraccio, ciao!